Mi c-c-c-come with me Nacio ragazzi, benvenuti in questo video aggiornamento che vi faccio vedere poco prima che io me ne parto per le vacanze proprio così ragazzi, purtroppo il vostro caro Cyber Hornet dovrà mancare perché me ne vado diciamo al fresco, me ne vado non in galera ma in montagna praticamente a passare le mie vacanze perciò lascerò il canale per tre settimane quindi spero che io possa divertirmi e che voi possiate divertirvi con quello che volete anche guardando i miei video precedenti perciò metterò se riesco la visualizzazione del canale su tutti i miei video quindi, niente, spero che non bene andiate dal canale cioè dai ragazzi, mi raccomando, non scappate intanto c'è anche il torneo play game spero che fili tutto liscio spero che vinca il migliore avete presente il premio il gatto, è il gatto, noi lo troviamo il gatto e praticamente saluto anche i vari youtuber famosi con cui ho parlato in questa settimana prima di partire cioè zombie best, frankie, proprio gente davvero speciale li ringrazio per tutto, per aiutarci nel torneo saluto ancora Alex Puccio, The Hacks tutte le varie persone che mi conoscono grazie al torneo e anche di persona se riesco farò altre cose con photoshop o altri video addirittura ma non credo che durante le vacanze ci riuscirò perché dato che vado nella Russia polacca praticamente è uguale o genere non avrò wifi guardate, è anche meglio così mi allontano un pochino da tutte le puttane varie che ci sono in giro niente, ragazzi ah giusto, poi devo dire anche come sto sotto questo gameplay di Resistance 3 perché ragazzi è veramente una figa io mi sono appassionato un botto in questi giorni anche se ce l'avevo dal day one praticamente l'ho platinato innanzitutto ho finito tutti i trofei e poi ho scaricato anche tutti i pacchetti con i big money delle grafiche ho scaricato tutti i vari pacchetti che il playstation network poteva offrire e li sto usando se qualcuno di voi ha Resistance 3 che si scarichi il pacchetto Brutalità perché contiene la modalità che state vedendo ora una specie di modalità zombie solo che su Resistance 3 davvero una figata altro che Black Ops così chi vuole giocare con me a Resistance 3 lo faccia pure è ben accettato quindi ragazzi ah giusto farò anche la video recensione una volta tornato di questa modalità che ora mi sto dando parecchi problemi perché sto scelerando come una bestia a farla perciò l'ho lasciata lì farò anche un video con Frankie insomma ragazzi fra tre settimane torno voi intanto non scappate ogni tanto un salto fatelo mandatemi qualcosina va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo fra anzi più che ci vediamo ci sentiamo fra tre settimane nacho ciao ciao Grazie a tutti.